Sento qualcosa... Non possiamo restare qui... Papà! Sono tornati! Le città della costa orientale sono sotto attacco. Le autorità esaltano a restare in casa. Evitate contatti con queste creature a tutti i costi. Il resto sarà tutto finito, te lo prometto. Intere regioni del paese sono state cancellate dalla mappa. Siamo ritornati ai secoli bui. La gente sopravvive. Non ci possiamo fidare di nessuno. Niente rumore. Ascolta, ascolta. Ascolta. Ascolta, ascolta. Ascolta, ascolta. Ascolta. Ascolta, ascolta. Ascolta. Let's go!